Innanzitutto, contrariamente a quello che vanta Di Maio, non è vero affatto che la volontà popolare si era espressa, ahimè, il 4 marzo, nel senso di una singolare alleanza tra i due opposti populismi. Anzi, a sentir parlare alcuni dei 5 stelle, quell'altro fronte erano tutti figli della mignotta. O cose di questo genere, figli della mignotta. Paolo Savona come persone al di là di ogni sospetto, questo è del tutto evidente. Però è un, come l'ha detto Carlo De Benedetti, ha definito Carlo De Benedetti, che un po' se ne intende, è un antitedesco suicida. Lui ha scritto testuale la politica economica della Germania di adesso è il bis della politica economica del governo nazista del 1936. Tu mandi in Europa uno che ha queste espressioni, uno che ha queste espressioni e gli fai fare tanti mestieri. Non lo mandi in Europa. Perché Cruciani? Perché fai così, Cruciani? Ma no, ma Giampiero, ma se stiamo ad accusare le persone per quello che hanno detto un mese fa, due mesi fa, tre mesi fa, non finiamo più. Ah, non conta nulla quello che ha detto. È una persona su che cosa lo valuto? Scusami, anche Salvini, su cui Mattarella non aveva nessun tipo di veto, naturalmente, e nel passato, come sai, su Napoli, sui Rom, eccetera, magari in addette di tutti i colori... Si, mascia stare Salvini, stiamo parlando di un ministro dell'economia, di un ministro dell'economia di un'Italia che deve andare a chiedere denari all'Europa, o no? Ma tu ti sei fermato su una dichiarazione fatta da Savona, credo, nel 2013 e nel 2014. No, no, esce nel libro di adesso, c'è questa cosa della politica... Sì, ma il problema non è il suo paragone, il problema, Giampiero, non è il suo paragone con la Germania di Hitler. Il problema vero è, purtroppo, che oggi... Che lui sia un antitedesco è una cosa inventata da me adesso. Ma qual è il problema? Non si può essere antitedeschi? Non si ha il diritto di essere antitedeschi, non si ha il diritto. Nel momento in cui un'Italia zoppicante va a chiedere dei denari? Noi dobbiamo chiedere molti denari. Io non so se chiederemo denari, non chiederemo denari. Siccome non siamo nelle nuvole... Sai, Giuseppe, qui non siamo... L'economia è una cosa diversa dalle chiacchiere in televisione. Sì, ma non stiamo parlando di economia, stiamo parlando di un'altra cosa. No, stiamo parlando esattamente di economia. No, non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di opinioni. Qui c'è la bocciatura di un'opinione diversa sull'euro, sulla Germania e sull'Europa. Beh, comunque rientra nelle facoltà del Presidente della Repubblica... Ma non c'è nessuna facoltà. Non c'è nessuna facoltà di fare un'opinione, non gradirla al 100%. Rientra nelle facoltà costituzionali del Presidente della Repubblica. Vediamo che cosa ha detto Bacchini. Cruciani. No, voglio dire una cosa a Giampiero in maniera molto chiara. Quello che è successo, e in parte anche a Tajani si è ancora collegato, quello che è successo nelle ultime ore, mi pare abbastanza chiaro. Cioè, quando c'è qualcuno, era successo anche in parte nella vicenda Sapelli, quando c'è qualcuno che mette in discussione, non con le baionette, non con la volontà di distruggere, perché insomma sia Savona che Sapelli non mi sembrano due robespierre, che erano lì due terroristi che volevano distruggere gli sparmi degli italiani. Ce lo vedete voi, Savona, a distruggere come ha prefigurato Mattarella i risparmi degli italiani? Io non ce lo vedo. Può commettere degli errori, naturalmente, però questo è un altro discorso. Anche i governanti precedenti hanno commesso degli errori. Quando c'è qualcuno, dicevo, che vuole mettere in discussione, in dubbio, No, ma ci sono i mercati che hanno avuto quella sensazione. Aspetta, Gian Piero, non ti sento, non ti sento bene, fammi finire. Volevo dire, Giuseppe, che quella sensazione, non di essere Savona un terrorista, ma che la situazione diventasse un po' rovente, l'hanno avuto i mercati. Beh, oggi non è migliore. Ma non è vero, perché te l'ha detto Scordamaglia, te l'ha detto Scordamaglia che oggi la sensazione non è cambiata. La situazione non è cambiata perché non è cambiata. Fammi finire, fammi finire un attimo. Allora, la conclusione è questa. Ripeto, l'impressione è che quando qualcuno mette in discussione, dico mette in discussione, giusto o sbagliato che sia, io lo considero giusto mettere in discussione, qualcun altro sbagliata, però quel tizio là è stato scelto da due partiti che sono stati votati dagli italiani. Quando qualcuno mette in discussione l'Euro, l'Unione, i rapporti con l'Unione Europea, i rapporti con la Germania, c'è qualcuno che blocca, che blocca questi signori qui. Come no? Cioè, sembra che la politica economica di questo paese non possa cambiare. Voglio capire, esiste questo. Dico una cosa, se queste sono legittime scelte, si entra in un altro campo, scelte legittime di scelte economiche, di politica economica, eccetera, eccetera, che poi si assumerà il governo la responsabilità di coprire le spese, eccetera, altrimenti verranno bocciati dagli italiani e mandati a casa. Che vuol dire? Qui si sta parlando di un'altra cosa. Che di fronte a un signore, a un signore che aveva delle opinioni diverse sull'Europa, sulla Germania e sull'Euro, c'è qualcuno che ha detto questo non può fare il ministro. Io la trovo vergognosa questa roba qua. È una facoltà del Presidente della Repubblica. È una facoltà del Presidente della Repubblica. Non dire scelenze. Ha fatto una porcata, lo posso dire? Non dire scelenze. Bene, finiamo con un po' di sorrisi. Buono, buono. Mazza, oggi fu qui? Ma Dio Sancio. Buono! Non invocare, non invocare.